La pillola di tiebreak per ricordare quello che è l'appuntamento con la Cardo Volley, una Cardo Volley che è reduce da una sconfitta, seppur limitando i danni, soltanto al tiebreak a Bisceglie, una sconfitta della quale parliamo con la dirigente Marilena Petronelli. Marilena, dunque un punto guadagnato, quello del parquet di Bisceglie che però non vi esime da essere stati agganciati da Terlizzi che invece è vittoriosa su Turinoia. Sì, diciamo che abbiamo perso sì, però io sono contenta della prestazione, abbiamo giocato contro una squadra abbastanza ossica, soprattutto sul loro campo, è difficile giocare lì a Bisceglie, quindi alla fine io ritengo che sia un punto guadagnato, forse quello che non ci si aspettava era la vittoria del Terlizzi in casa sul Turi che quindi ha permesso ora al Terlizzi di agganciarci al terzo posto. Diciamo che tutto sommato il punto guadagnato è un punto utilissimo per la classifica, io non recriminerei molto sul risultato finale. Marilena, vista dal parquet, vissuta sul parquet, questa sconfitta è maturata dopo che siete state per due volte in vantaggio? Sì, questa sconfitta è maturata dopo due vantaggi, al primo e al terzo set. Quello che ci è mancato sicuramente è stata la costanza rispetto alla squadra avversaria che comunque doveva riscattarsi dal 3 a 1 che aveva subito a casa da noi. Sicuramente il loro affiatamento è stato maggiore, noi abbiamo qualche volta reso meno, però quello che è importante adesso è guardare al proseguo del campionato perché adesso tutti i punti che vanno persi sono molto importanti, quindi dobbiamo lavorare con costanza e provare a raggiungere il nostro obiettivo che è quello dei play-off. Il Molfetta è andato a sconfiggere addirittura in casa la capolista Eurotec Gela con un sonante 3 a 0, un risultato di prestigio. Il Molfetta non è nuovo a queste imprese, dunque conserva questo quarto posto subito dopo Gela a Tripalda e Turi a quota 40. Una Molfetta che invece osserverà il primo dei due turni di riposo previsti in questo campionato. Marilena, invece una squadra che deve riscattarsi siete voi al cospetto del Modugno, il vostro prossimo impegno interno? Sì, dobbiamo riscattare il 3 a 2 del girone di andata e quindi dobbiamo vincere. Dovete vincere soprattutto perché... Non solo per una questione di classifica, ma ripeto, proprio per una questione di riscatto. Quella che vi manca un po', ecco la videata generale con Cardovolle e Barletta Modugno in attesa poi dell'incontro decisivo dell'altro sabato a Terlizzi. A Terlizzi, quello sarà davvero uno scontro diretto per mantenere questo terzo posto. Questa era la pillola di Thai Break, l'appuntamento al prossimo numero. A Terlizzi, quello sarà davvero uno scontro diretto per mantenere questo terzo posto.